I carabinieri hanno denunciato un 47enne di Trebaseleghe che circolava in auto senza patente. L'uomo, fermato durante un normale controllo, ha mostrato subito nervosismo accampando scuse incredibili. I militari hanno controllato a fondo i documenti e hanno scoperto che alcuni anni fa la patente gli era stata revocata definitivamente per una serie di infrazioni. All'uomo, denunciato per guida senza patente, non è rimasto che farsi accompagnare a casa da un familiare.